Si terrà presso l'Informa Giovani di Andria, la formazione e poi la selezione di giovani andriesi da avviare presso i villaggi turistici pugliesi per la prossima estate. Ne parliamo con il rappresentante del tour operator e dell'ente di formazione, Vincenzo Sinisi. La JV Group è pronta a dar vita ad una tre giorni di workshop di animazione, 14, 15 e 16 marzo, ad Andria presso l'Informa Giovani per selezionare ragazzi di età compresa tra i 17 e i 35 anni che potranno diventare futuri animatori. Esattamente che cosa succederà in queste tre giorni? Sì, noi stiamo selezionando varie figure per la prossima stagione estiva da inserire in villaggi prevalentemente in Italia, Puglia e Calabria. Cerchiamo capi animatori, responsabili di urni, istruttori di fitness, assistenti bagnanti, animatori di contatto, tecnici audio e luci, DJ, tutte quelle figure che insomma vediamo girare e lavorare all'interno dei villaggi turistici. In questi tre giorni sono più che altro un seminario rivolto soprattutto a chi ha poca esperienza di lavoro nel villaggio e magari vuole intraprendere questa carriera. Ci saranno dei momenti in cui verranno messe alla prova le capacità dei ragazzi con prove di sketch, attimi di intrattenimento e le mancabili sigle che vediamo nei villaggi. Per chi invece ha già esperienza faremo dei colloqui per appunto selezionare le figure a noi che stiamo cercando e che ci interessano. Chi può partecipare a questi workshop? Bisogna avere delle caratteristiche, soprattutto qual è la caratteristica che i selezionatori in qualche maniera cercano? Diamo qualche indicazione a questi ragazzi. Allora innanzitutto come abbiamo detto ragazzi dai 17 ai 35 anni, persone che sono dinamiche, socievoli, motivate, ma spesso abbiamo anche trovato ragazzi che sembravano timidi, chiusi e che magari facendo l'animatore hanno tirato fuori delle potenzialità. Quindi anche se una persona si sente timida e insicura può comunque provare a partecipare a questo workshop, magari piace e può tirar fuori altre qualità che pensavano di non avere. Dopo la chiusura del workshop, dopo pochi giorni riceveranno un precontratto che è più che altro un impegno da parte nostra ad assumerli nel momento in cui parte la stagione. Poi a ridosso delle partenze che solitamente cominciano a fine maggio e proseguono anche nel corso della stagione, un paio di settimane prima della partenza riceveranno il contratto vero e proprio da firmare e da rinviare all'agenzia.